Sul Mona si è fatta sempre riconoscere, anche in quell'epoca. L'interessante e inediti retroscena sulla realizzazione della statua di Ovidio in piazza 20 Settembre arrivano dal collega giornalista Giuseppe Guastella, sulmonese di origine e autorevole firma del Corriere della Sera. E proprio Guastella, in un articolo pubblicato oggi nella sezione dedicata alla cultura, svelare che Ugo Oietti, direttore della Testata, negli anni 1926 e 1927 avesse indicato alla guida del Comitato d'Onore per la realizzazione della storia di Ovidio in piazza 20 Settembre un grande abruzzese come Gabriele D'Annunzio, al quale era legato da profonda amicizia e stima. Ricorda ancora Guastella, nel suo pezzo ricco di interessanti particolari, che lo stesso Ietti, più che nomi dell'aristocrazia cittadina, della politica e altri notabili, aveva suggerito di inserire nel comitato altri 10 o 12 poeti viventi che avrebbero potuto parlare di Ovidio con parole di realtà e di rispettosa fratellanza. Infatti solo loro avrebbero compreso in pieno il valore del sommo poeta sulmonese, più che i politici, affermazione vera all'epoca e diremmo ancora più fondata oggi. Oietti scriveva della necessità che Sulmona rendesse omaggio al suo Ovidio con una statua che peraltro già nel 1887 era stata eretta a Costanza, l'antica Tomi dove Ovidio trascorse i suoi ultimi giorni e condannato alla relegazio dall'imperatore Augusto. La statua venne finalmente inaugurata nel 1925, il 30 aprile, alla presenza di re Vittorio Emanuele III, realizzata dallo scultore Ettore Ferrari di fede massonica, che però essendo antimonarchico, come ricorda l'archeologa sulmonese Emanuela Ceccaroni, rifiutò di prendere parte a quella cerimonia.